La stessa escursione di dieci anni prima. E che succede? Succede che durante la passeggiata Dian ha di nuovo altre allucinazioni. Solo che dieci anni prima c'era una trafada gigante, questa volta un dinosauro. Ragazzi, vado a vedere quanto era la cantina un uomo! Mi dovete aiutare, orquale, che poi ce lo passano! Escolatemi! Ancora! Io sono un bravo. Non sono velocissimo, ma sono intelligento. E così... Piam! Vono! 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 Ragazze! Ma che state facendo? Va bene, comunque io vi voglio bene per quello che siete e per come siete. E ricordatevi, abbiamo un obiettivo da raggiungere! Eh sì, finalmente ho preso coscienza che l'università è dentro tutti noi. Non serve somigliare agli altri, basta voler bene a noi stessi per poter accettare anche gli altri. Essere se stessi, fino in fondo, è il modo migliore per essere lì. No! No! Diverso per fortuna. Ed è qui che termina il nostro viaggio. Un viaggio particolare e offerto in maniera gratuita da coloro che andrò a nominare. Allora il viaggio è stato offerto gratuitamente dalla nostra Alessandra, dalla nostra Mayra, da San Pereira, Carmela, Nicola, Anna, Florans, Octonia, Grazie. 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 Grazie.